Ritorna l'appuntamento con i libri e la lettura Andrea Cassisi che abbiamo ospitato qualche settimana fa con un libro dedicato all'amicizia tra Andrea Camilleri e Federico Ferro. Ciao Andrea, bentrovato. Ciao Paola, bentrovata, grazie. Allora, grazie per essere ritornato. Tu sei giornalista, scrittore, insegnante, ti occupi anche dell'ufficio stampa della tua diocesi di Piazza Armerina e sei anche direttore del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. Scrivi anche poesie. Ecco, quindi vorrei oggi, oggi parliamo di poesia, quindi a tra le righe non lo facciamo spesso, però ne vale veramente la pena perché come dici tu stesso la poesia è vita. E' scritto un libro edito da Betania, editrice su Carta da Zucchero, poesie, quindi sono poesie che hai scritto tu. Sì, sì, è una mia produzione, una piccola siloge poetica. Ecco, e poi parleremo anche di una antologia poetica a cura tua e di Emanuele Zuppardo e poi parleremo anche del Centro di Cultura e Spiritualità Zuppardo e del fatto che appunto c'è questo premio dedicato alla poesia. Allora, andiamo per ordine. Perché è così bello scrivere poesie? Scrivere poesie in realtà è un modo per isolarsi, se vogliamo, dalla realtà contemporanea. È un modo per mettere un freno alla velocità, al tempo. È un modo per dire tutto quello che vogliamo dire anche in altre parole. Forse è proprio questa abilità linguistica, questa grande competenza della poesia che può aiutarci ad esternare dei sentimenti, delle emozioni, che ci fa partecipi magari di un mondo del quale non ce ne accorgiamo proprio perché immersi nella frenesia di tutti i giorni. Allora la poesia diventa un modo non solo per, se vogliamo, estraniarsi, ma anche per concentrarsi, per non solo emozionarsi. La poesia non deve avere questo tono quindi né rivoluzionario, secondo me, né consolatorio. Deve semplicemente dilettare. Alba Donati, che è un nostro premio della cultura, di questo premio che adesso parleremo, dice leggiamo una poesia al giorno e leggiamola soprattutto a voce alta, proprio perché la capacità dei versi farà in modo che il nostro animo possa, perché no, purificarsi e anche trovare un respiro diverso. Queste quindi sono le tue poesie su carta da zucchero. Mi piace anche il titolo che hai dato a questa antologia appunto di tuoi versi. E a proposito di antologia, come dicevo sei presidente del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana a Zuppardo e ho tra le mani uno dei volumi di questa antologia che raccoglie diverse poesie di poeti provenienti da tutta Italia, vincitori di un premio dedicato alla poesia. Raccontami, spiegami meglio di che si tratta. Il Centro Zuppardo è nato nel 1998, quest'anno il premio festeggia 20 anni ed è un premio rivolto a tutti i poeti d'Italia e non solo, perché abbiamo avuto anche poeti europei che hanno partecipato con le loro poesie. E in questa antologia raccogliamo solamente alcune, perché sarebbe veramente impossibile inserire tutte le poesie che arrivano al nostro concorso, delle più belle, quelle segnalate dalla giuria e naturalmente quelle vincitrici. Ogni anno realizziamo questa antologia, l'ultimo in ordine di tempo è quella che tu tieni in mano, Un pugno di coriandoli, che prende il nome dalla poesia vincitrice di un poeta di Avola in provincia di Siracusa, che è Andrea Caputo, e vuole valorizzare non solo i poeti e la loro produzione, ma anche questo legame che unisce centinaia, migliaia di persone che di poesia si nutrono. Il premio La Gorgone d'Oro, che peraltro viene ogni anno celebrato sotto tante sfaccettature, quella della letteratura, del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, in generale ha visto premiati numerosi poeti d'Italia, di fama nazionale. Cito solamente Alessandro Quasimodo, Davide Rondoni, la già citata Alba Donati, o ancora Rodolfo Vettorello, Carmelo Consoli. La cosa che stupisce è che nel meeting della poesia, che ogni anno teniamo a Gela in Sicilia, riusciamo sempre più ad attirare l'attenzione di molte persone, quindi evidentemente di poesia c'è bisogno, di poesia ci si può nutrire di letteratura parlando. Questo premio ne è la dimostrazione, il fatto che da vent'anni riusciamo a celebrare la poesia in questo modo, evidentemente è un chiaro segnale che la poesia ancora è viva e vegeta, anche se i numeri dei premi probabilmente tendono a dire il contrario. È un premio a cui possono prendere parte, come dicevi, diversi poeti italiani e anche europei, di poesia religiosa e a tema libero. Vuoi leggerci magari un passaggio di una poesia che a te ha colpito particolarmente? Sì, è inserita in Lampedusa Canti tra polvere e mare, che è l'antologia del penultimo concorso, e di Carmelo Consoli di Firenze. Il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza ricorre tantissimo nella produzione poetica del 2018. E dice così Potessi addolcirla questa terra amara, restituirla al profumo antico delle zagare, allo stupore dorato delle maree lontane, fanciullo perso tra calanchi neri di schiume, tra capperi e ginestre sgomente ed infinito tra le rocce. Potessi ritornare alla doccezza degli approdi di quattro vele all'orizzonte, nel canto sereno della risacca, l'isola cara che mi fu madre di odorosi silenzi, e speranze d'amore tra albe dorate e rosati tramonti. È solamente una strofa di questo bellissimo canto d'amore, d'accoglienza, che lo stesso poeta identifica con il profumo del mare, ma anche l'odore della polvere della terra, che richiama il tema delle migrazioni, ricorrente, come dicevo poco fa, nella nostra produzione poetica di questo volume. Parliamo del centro Salvatore Zuppardo, perché tu appunto occuri questa antologia che raccoglie le poesie più belle, le poesie anche vincitrici del premio, insieme a Emanuele Zuppardo, che è papà di Salvatore. Di Salvatore, sì. Salvatore è stato un poeta, è stato un pittore, molto legato alla spiritualità di Santa Teresa di Gesù Bambino. La sua vita è straordinaria. Nella sua Bibbia, dopo la sua morte, papà trovò un foglio, dove c'era scritto «Un giorno, giunti davanti al Signore, saremo coronati delle più belle pene d'amore, e tra le più interessanti per me ci saranno la sofferenza, proprio perché lui soffrì, insomma, è morto prematuramente, immagino. A 24 anni, sì, sì. Quindi ha lasciato davvero una esperienza edificante, soprattutto per la famiglia, che da questa esperienza terrena di Salvatore ha eretto questa associazione che oggi vive nella sua memoria, insieme con anche una biblioteca, una via a Gela, ed anche questi premi che ogni anno realizziamo e che ci permettono di parlare di poesia. Tu speri che la poesia un giorno possa trovare un po' di spazio, perché no, in TV o sui social? Già c'è però qualcuno che dedica spazio alla poesia sui social. Sì, in realtà è un nostro grande desiderio. Peraltro ci prepariamo a festeggiare il ventennale dell'associazione, quindi speriamo, insomma, di poter portare la poesia in televisione. Già sui social, come ben dicevi tu, c'è questa grande esperienza che avvicina i lettori e i fritori, insomma, dei social a quelle che sono le rime, le poesie, i versi dei più importanti poeti. C'è addirittura chi ne ha fatto uno stile social, quindi si occupa solamente di pubblicare su InstaPoetry, si chiama adesso così, no? Questo genere di letteratura, di poesia, attraverso appunto i canali social. Quindi c'è questo grande desiderio, perché siamo convinti che la poesia possa abbarcare i confini non solo dei libri, ma anche quelli di quanti, per anche solo qualche minuto, hanno desiderio di isolarsi e condividere, insomma, un attimo di sentimentalismo puro, di emozione, per affrontare anche dei temi attuali sotto un'altra luce, sotto un altro punto di vista. Credo che la poesia, questo, possa farlo benissimo. Questo premio, la Gorgone d'Oro, ne è la dimostrazione, quindi riusciamo non soltanto a coinvolgere i poeti, ma quello di ogni anno. A Gela non è solamente il meeting dei poeti, cioè la città diventa un crocevia di scambio culturale che non coinvolge solamente questa categoria di persone, quindi non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche quanti di poesia ancora vogliono fruire perché ci credono. E noi ci crediamo, lo abbiamo fatto sin dall'inizio, lo faccio io, che ho imparato a leggere la produzione poetica degli ultimi anni, grazie a questi numerosissimi autori contemporanei, e quindi spero che anche gli altri possano riuscire a farlo, anche attraverso il nostro premio. Grazie Andrea Cassisi per essere stato con noi, grazie per averci parlato della poesia, della poesia che davvero è vita. Grazie ancora. Grazie a te Paola, grazie per questo ulteriore spazio. Grazie a voi tutti per averci seguito. Tra le righe torna la prossima settimana. Grazie a te Paola, grazie a te Paola, grazie a te Paola.